Buonasera, buonasera, formato sono io, 2206, è il piacere, l'onore di avere con me la cantautrice Chiara Palaia. Ciao Chiara! Buonasera, buonasera a tutti quanti, grazie a te davvero per questa bella opportunità che vi dai. Grazie a te Pietro. No, no, grazie a te Chiara, grazie per condividere questo pezzo del tuo tempo in cui parleremo della tua essenza, della tua vita, delle tue passioni e logicamente promuoveremo il tuo ultimo brano, anzi che poi diventa forse anche l'ultimo che è anche forse il primo inedito, lo possiamo dire? Sì, esattamente. Il primo che è anche ultimo per entrambe le situazioni, insomma, ecco, un'altra anima bella che sono riuscito a trovare, perché io vi trasformo con il mio format in ricercatore di anima bella, quindi l'anima bella di questa sera sei tu Chiara, grazie Chiara per aver accettato questo momento. Allora, prima di partire, di iniziare, io direi di salutare subito, già te l'ho detto dietro le quinte, salutiamo gli amici di Radio Trisol in Cile, Radio Sputnik in Spagna, in Quattro e poi Radio Dream of the Night anche in Italia, perché c'è questo gemellaggio, c'è questo scambio di programmi e quindi sicuramente porterà un valore aggiunto a tutti, a tutti noi, quindi grazie ancora. Allora, Chiara, partiamo subito, io direi di partire, io di solito, tu sai da come hai potuto, diciamo, verificare, il mio approccio è un approccio molto, diciamo, istintivo, molto spontaneo, seppur giustamente è normale che cerco di informarmi su quello che tu sei, quello che tu fai, però è giusto, molto istintivo informare. Oggi pomeriggio mi sono soffermato ad ascoltare le sigle di cartone animati, allora io vorrei tornare un attimo a qualche giorno fa quando eri bambina, ecco, che tipo di cartone animati e che sigle hai ascoltato? Allora, guarda, io cartone animati, diciamo che li ricordo poco, diciamo che guardavo spesso con mio fratello Olly e Benji, mi ricordo. Olly e Benji? Però mi ricordo che comunque mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva molto, mi piaceva anche la, proprio la sigla di Olly e Benji, quindi me la ricordo davvero con molto piacere. E anche Lupin, ogni tanto, sì. Anche Lupin? Vabbè, anche, sì, 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 sì. Boh, i Simpson, i Simpson. I Simpson. Sì, sì. Quindi, diciamo che partendo da qui, da questo aspetto molto fanciullisco, lega, insomma, ai ricordi legati un po' alla musica, insomma, di quando si è ragazzini, ecco, ma tu già quando, ecco, eri ragazzina, la musica per te rappresentava qualcosa di importante o per te era solo il puro sbaglio, eccetera? Allora, diciamo che per me la musica è stata sempre qualcosa di importante, questo l'ho capito però intorno ai più o meno dieci anni, quando poi è iniziata, poi più in là iniziò la, proprio la mia passione proprio per il canto in particolare. Ma io mi accorsi che comunque era qualcosa di importante quando comunque ascoltando una canzone e magari canticchiandola, notavo che soprattutto magari qualche pezzo che magari gradivo particolarmente, quasi mi uscivano le lacrime. Allora, là ho capito che c'era qualcosa in più, ecco, rispetto magari a un ascolto così, magari molto, molto leggero, ecco, c'era di più. Da là, diciamo che ho capito che c'era qualcosa di diverso, di più, di più grande. In merito alla scrittura, anche tu avevi il diario in cui ti scrivevi le frasi delle canzoni, quelle dei cantautori? Ah, sì. Allora, diciamo che io, sì, mi piaceva già scrivere molto, infatti io diciamo che a scuola sono stata sempre molto brava, soprattutto in italiano. E mi piaceva proprio scrivere tempi, scrivere testi, ma anche racconti, ecco, raccontare magari la realtà quotidiana, ecco. Mi piaceva molto, infatti ricordo questi temi interminabili, mi ricordo che facevo temi molto lunghi. Che, tra l'altro, comunque ero, i voti, cioè, vendevo comunque anche voti abbastanza alti. Poi, diciamo che verso le scuole medie, diciamo, mi divertivo soprattutto magari a modificare i testi di alcune canzoni, magari con i compagni, no? Per scherzare, per stare insieme, mi ricordo che ci divertivamo anche a modificare magari i testi. Però sì, sì, anch'io annotavo sicuramente delle frasi comunque che mi colpivano assolutamente, sì, 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 mi è capitato stesso. Ma a livello di comunicazione, ecco, tu l'hai detto, sei stata sempre molto brava, insomma, a esternare i tuoi pensieri, le tue emozioni attraverso la scrittura. Sì. Ecco, ma questa bravura è frutto anche di grandi letture o è perché effettivamente è qualcosa che fa parte di te al di là di tutto? Ma io credo che faccia parte di me, perché non sono stata una grande attrice, ecco. Sì, sì, mi piace leggere, senz'altro, però io vado molto a istinto, cioè scrivo proprio quello che sento, quello che percepisco, questo. Vado molto, vado molto sul personale, ecco, su quello che comunque sento io, ecco. Sì, al di là, al di là comunque della lettura, sì, assolutamente. E invece, facendo un confronto con, logicamente, il linguaggio proprio quello musicale. Sì. Ritieni che, ecco, sia più importante, visto che sei una cantautrice, sia più importante il testo o sia più importante l'armonia musicale? Eh, beh, guarda, è una domanda difficile da rispondere, perché comunque, essendo che io, diciamo che do importanza a entrambe le cose, e sto dando importanza al testo, magari maggiormente da quando comunque ho cominciato a scrivere dei testi comunque miei, perché, diciamo che la passione per la scrittura l'ho sempre avuta, però ho fatto, diciamo, sul serio da poco, ecco, proprio da quando ho cominciato a scrivere davvero i primi testi, poi i reali, no, veri e propri musicali. Perché poi, ovviamente, un conto è scrivere magari un tema e un testo libero, e un conto è scrivere poi un testo proprio musicale, di canzone, e là è una cosa più complessa, ecco, perché poi devi andare di pari passo con la musica, devi trovare le parole giuste, che suonino con quella determinata nota, e quindi è un discorso più complesso. Quindi, essendo che comunque da un po' di tempo, diciamo, sto facendo sul serio, sicuramente negli ultimi tempi sto dando maggior rilevanza al testo, senz'altro, ma anche perché è una cosa che comunque vorrei migliorare molto. Diciamo che già mi comincio a piacere di più rispetto al passato, mi trovo più matura, tra virgolette, però vorrei davvero migliorare perché è una cosa che sento comunque di poter fare, ecco, mi sento comunque in grado di poter fare, quindi vorrei davvero studiare. Ma questo miglioramento è legato a cosa? A uno studio oppure vorresti affiancarti a qualche altro cantautore che ti possa dare gli giusti suggerimenti? Allora, magari... Sì, anche questo, diciamo, un suggerimento da un cantautore, magari che scrive in italiano, mi farebbe piacere. Perché comunque io sono, sì, infatti il mio primo singolo, anche il secondo che uscirà praticamente a settembre, sono entrambi in inglese, quindi essendo che, sì, sento questa predisposizione per l'inglese, un po' meno per l'italiano, perché l'italiano lo trovo più... Nel senso che non vorrei cadere nel banale, ecco, io ho sempre questa paura di cadere nel banale, ecco. Diciamo che vorrei, eh, vorrei magari qualcuno che mi aiutasse ad arricchire magari anche il mio lessico, il mio linguaggio, no? Perché comunque è importante. Magari una persona che comunque ha più esperienza a livello proprio di scrittura sicuramente ti apre un mondo, quindi, sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe molto collaborare anche con un cantautore, perché no, comunque... Scusa, se mi ha fatto chiaro, noi siamo partiti da un momento in cui tu hai detto che comunque per te l'italiano era, ecco, una lingua veramente, ecco, con cui ti trovavi molto attuato nell'esprime. Sì, sì. Adesso invece viene fuori che a livello di canzoni preferisci l'inglese. Perché diciamo che non... Eh, perché diciamo che quello che ho scritto magari non mi basta, ecco, non mi piace. Cioè, vorrei di più, cioè mi aspetto di più da me stessa, ecco. E quindi invece in inglese sono riuscita a dire quello che comunque volevo dire. E quindi l'inglese mi ha soddisfatto, ecco, sotto questo aspetto, diciamo così. Sì, invece in italiano... In questo aspetto, poi c'è anche un tuo desiderio, quello di dare forse anche un taglio internazionale. Sì, questo sì, questo anche. A livello di canzoni? Ma anche perché diciamo che questi due testi sono nati in inglese perché diciamo che la musica si... Diciamo che è molto americano come genere, come stile. Quindi un testo in italiano per queste melodie qua non ci calzava molto. Non l'avrebbe riso, non l'avrebbe riso. Sì, sì, non è infatti. Quindi diciamo che è stata anche una... C'è qualcosa che comunque suonava bene in quel modo, quindi questo. Magari con una melodia più italiana potrebbe comunque... Potrebbe uscire qualcosa di carino. Però dovrei studiarci un po' su, ecco, perché sempre con questa... Perché io ho sempre questa paura, ecco, di cadere nel banale. Vorrei scrivere qualcosa che comunque piaccia innanzitutto a me stessa, no? Perché poi penso che comunque quando andiamo a fare qualcosa, la prima piacerà a noi stessi. Perché se non siamo soddisfatti, penso prima a noi stessi, non possiamo soddisfare gli altri, ecco. Quindi questo. Ma sei quindi questo perché sei anche molto... sei ipercritica da o con te stessa? Allora, io sì, sì, sono ipercritica assolutamente. Diciamo che negli ultimi tempi un pochino mi sto... Cioè, sto acquisendo un po' di sicurezza in me stessa. E anche la musica comunque aiuta tantissimo. A me la musica ha aiutato tantissimo. Prima di, praticamente, di cantare ero proprio timidissima, non tipo... Vabbè, diciamo che la mia natura è sempre rimasta quella, voglio dire. Però anche nel rapporto con gli altri sono molto... cioè, mi sono molto più... Più aperta, sono molto più disponibile a parlare, a confronto, eh. A comunicare. A comunicare, assolutamente, assolutamente. Però sì, assolutamente, io parto dal presupposto che sono proprio molto critica. Cioè, io vorrei sempre... cioè, che facessi di più di quello che faccio, ecco. Non sono mai troppo soddisfatta di quello che faccio, ecco. Ma, beh, questo, diciamo, è frutto anche del fatto della tua intelligenza e del fatto che, giustamente, uno voglia sempre crescere. Quindi, mi sembra anche normale, no? Diciamo, una forma quasi di non accontentarsi mai per poter crescere. Quindi, mi sembra anche normale che accada questo. Ecco, in questo tuo percorso, in questo tuo percorso, Chiara, quanto è importante circondarsi di persone che, ecco, che abbiano fiducia in te e quindi possano darti il giusto contributo, no, nel portare avanti la tua musica, Chiara? Certo, importantissimo. Io ho avuto la fortuna davvero grande di avere comunque dei genitori. Purtroppo mio papà non c'è più da due anni, però mi hanno sempre sostenuto in tutto e per tutto, ma soprattutto nella musica. Sono stati loro, soprattutto mia mamma, quando ero piccola, cioè, quando ero più piccola, proprio, cioè, non insisto, però mi spronava molto ad andare avanti. Sì, sì, assolutamente. Mi ha sempre spronato a, su questa strada, a continuare proprio su questa, su questa strada, perché, eh, comunque ha notato che c'era qualcosa, c'era un, eh, un potenziale. E quindi ha detto, mi ha, mi ha, mi ha, mi ha davvero, cioè, chiamava magari i vari festival musicali per farmi partecipare. Ehm, io essendo timidissima, eh, diciamo che mi è sempre piaciuto, però questa, questa timidezza mi è sempre un pochino, eh, frenato, ecco, era quello che mi, però, la, 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 c'era la voglia di, cantare, di fare musica diciamo che penso che c'è stata da sempre però c'era questa timidezza che mi, come ho detto che mi frenava, che mi bloccava Chiara, quali sono questi valori e questi principi che io percepisco quindi che ti fanno anche essere la donna che sei oggi, l'artista che sei oggi, quali sono questi valori e questi principi che tua mamma e tua prova ti hanno trasmesso? Vabbè, sicuramente la cosa per me la cosa più importante nella vita è proprio il rispetto rispettarsi il rispetto reciproco poi sicuramente l'umiltà sono un tipo che è stato sempre con i piedi per terra cioè se comunque raggiungo anche un minimo di successo lo prendo sempre come qualcosa che può finire fra un attimo ecco non sto lì a magari a allodarmi troppo ecco penso già magari a quello che devo fare domani cioè penso già a nuove sfide ecco a superare sempre nuove sfide sempre nuovi nuovi traguardi diciamo che non sì questi sicuramente ma poi sicuramente l'essere me stessa cioè senza sì io a me piace è sempre piaciuto in tutte le cose pensare proprio con la mia con la mia testa anche andando magari contro contro gli altri magari ma perché comunque io cioè andando avanti con la mia testa pensando con la mia testa preferisco sbagliare però almeno comunque ho sbagliato io cioè non mi ha fatto sbagliare qualcun altro questo penso che è una cosa molto molto importante perché poi comunque uno uno non lo deve capire sulla propria pelle no? perché magari se te lo dice un'altra persona non puoi capirlo invece se lo vivi se lo vivi devi capirlo tu dove stai sbagliando e dove no quindi sicuramente questo mi piace mi piace molto diciamo come dire e avere una personalità da da difendere ecco questo per me per me è importante questa cosa se mi so che tu hai tirato fuori questo aspetto legato all'autenticità l'aspetto del fatto che comunque tu sei sempre no? in continuo movimento no? quindi inizio al merito ecco però allora quando va di un esperimento adesso ne parliamo anche perché io lo voglio legare proprio adesso è il momento di presentarlo di ascoltare il tuo brano il tuo inedito diciamo sì ecco per quanto riguarda l'autenticità vorrei tu dicevi che logicamente sì certamente legandola al rispetto quindi tu comunque non accetteresti mai compromessi perché questa mente per restare vera per restare autentica non dovrai mai accettare compromessi sì io assolutamente non amo cioè assolutamente questo tipo di cose io preferisco comunque sudarmi sudarmi le soddisfazioni ecco io penso che non ci sia cosa più bella che comunque magari vincere una battaglia con il proprio con il sudore della propria fronte ecco sì sicuramente magari posso accettare magari un suggerimento però che sia un suggerimento comunque costruttivo un suggerimento magari davvero magari di persone che comunque cioè di persone comunque fidate ecco però facciamo finta dai voglio provocare facciamo finta che ti diano l'opportunità di andare a Sanremo però però dovrei cantare una canzone che non è nelle tue corde non è una tua canzone no allora non credo non credo proprio al limite farei di tutto per fare per fare in modo di 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 cambiarla quella situazione cioè farei di tutto comunque per per andare per andare comunque al meglio cioè come come comunque cioè voglio io vorrei io ecco perché vada chiama Valaya non vada sì assolutamente assolutamente magari non dirò di no però e deve cioè se devo andare devo andare come dico io se no se no no sono proprio sincera te lo dico perché no no ma infatti mi sembra che non mi sembra che stiamo sparando cavolate stiamo cercando di essere i più assolutamente assolutamente sì tornando che c'è il fermento e quindi quindi voglio collegare anche all'introduzione high school va bene tu hai detto prima che sei in continuo fermento quindi sembrerebbe quasi che tu non ti riesca a godere il momento invece nella canzone che andremo ad ascoltare tu parli proprio di godersi il momento eh ma è proprio ma infatti un po' lo dico a me stessa cioè in quel testo in quel momento era come se stessi parlando con me stessa in realtà ecco perché sì in effetti questa cosa diciamo del godersi il momento la sto capendo adesso diciamo dopo che comunque avendo perso mio padre due anni fa poi queste cose ti fanno capire davvero la vera essenza delle cose magari di quello che anche del quotidiano ecco magari prima qualcosa di quotidiano cioè ci sembrava sembrava routine sembrava scontato invece magari adesso quella routine vorresti davvero cioè riviverla e non puoi più ecco non puoi più farlo e quindi diciamo che purtroppo molte volte devono capitare delle cose davvero così estreme per farti apprezzare davvero la vita non che prima non l'apprezzassi però perché comunque io ho avuto sempre questa cosa di apprezzare le piccole cose assolutamente però non come ora cioè non come ora davvero e quindi un po' lo dicevo a me stessa parlavo con me stessa in quel momento perché dovrei 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 comunque vivere più il momento invece magari per tante cose uno magari anche perché comunque diciamo che più si va avanti più ci sembra tutto effimero ecco almeno a me questa ho sempre questa questa impressione qua ecco più si va avanti poi considerando anche il mondo di oggi ecco quello che stiamo vivendo quindi diciamo che è come un voler un pochino scappare pure dalla realtà da quello cioè magari penso domani per non pensare magari ad adesso penso magari domani chissà possa essere migliore quindi io già penso a quello che devo fare domani per non guardare magari la realtà ecco è vero io penso che valga un po' per tutti comunque siamo sempre portati a guardare poi avanti e non soffermarsi un po' sul momento su quel momento e poi per cerirne proprio ecco il valore la qualità di quel momento che poi solo dopo solo dopo cerchiamo di cerchiamo di andare poi a scavare per risentirne quel bel gusto di quel momento invece solo dopo solo dopo sentimi ma qui nel brano che adesso andiamo ad ascoltare prima di tutto voglio che tu lo introduca anche parlando di chi logicamente ha collaborato con te anzi mi sembra che ci sia qualcuno che a livello musicale mi sembra che ci metta un toro particolare io il brano l'ho sentito varie volte e posso dirti che al di là del testo e della tua voce c'è diciamo un accompagnamento musicale che dà ancora più importanza a quello che tu proponi sì assolutamente io la musica è stata scritta da Sunil Rocca che è chitarrista musicista che ha che ha composto tutto l'arrangiamento e vabbè nonché anche il mio compagno di vita lo posso dire tanto non ci sono non abbiamo segreti quindi allora per questo devo dire una cosa divertente rispetto a questa cosa perché ultimamente ho intervistato una cantante argentina però lei per esempio ha il compagno che pure lui è un artista però per esempio lei ha preferito di non dire perché per una questione dice perché altrimenti avrei perso diciamo tra virgolette in termini di fan che mi seguono perché sì ma ci sono queste sì sì infatti mi pare a credere di essere sempre single eh sì però è una cosa che poi andrebbe contro diciamo la mia essenza ecco quindi infatti è da poter sorridere sì sì no ma infatti so che ci sono so che esistono parecchi comunque artisti che preferiscono magari tenerlo in serbo quindi tranne il segreto quindi poi io non ci trovo nessun problema a dirlo sì assolutamente quindi prego scusami non ti vorrei interrompere quindi eh sì diciamo che lui allora lui anche lui diciamo che è tantissimo tempo che avrebbe voluto fare fare musica e sua perché lui ha tante melodie praticamente dall'età di 14 anni che lui compone e quindi però non ha trovato diciamo le persone giuste con cui fare musica e diciamo che in questo caso ci siamo trovati perché avendo anche gli stessi gusti musicali eh infatti entrambi diciamo entrambi diciamo eh navighiamo un po' in quel in quell'ambito magari in quel genere pop rock anni 90 2000 diciamo che è un genere che ci accomuna e e poi a lui lui voleva fare musica io volevo fare musica e abbiamo detto eh andiamo d'accordo anche come gusti musicali ha detto perché no proviamoci e poi piano piano stanno stanno nascendo questi questi singoli che comunque questo è il primo il primo singolo uscito it's gold e a settembre come dicevo prima e uscirà il prossimo sì e niente diciamo che ci stiamo regalando un sogno si può dire dai è questo vedi che alla fine si si cantati bene nel terreno però anche il sogno ogni tanto deve venire deve venire fuori assolutamente assolutamente sì musicali o vuoi sperimentare anche altri altri allora no io io ma entrambi comunque vorremmo sperimentare anche altri altri generi perché comunque diciamo che per l'inizio per iniziare è sempre meglio magari stare su un genere molto comunque leggero ecco anche per avvicinarsi comunque al pubblico perché magari poi un genere troppo estremo all'inizio non non si capirebbe e quindi non avrebbe la giusta diciamo giusto risalto ecco quindi come primo singolo abbiamo deciso comunque come primi singoli abbiamo deciso comunque di di tenerci comunque sul pop rock abbiamo aggiunto una carica rock che non che non guasta che comunque non guasta e quindi questo volevo dire c'è molto c'è molto rock c'è molto rock sì sì diciamo che l'intenzione è rock sì ma via entrambi quindi sicuramente in futuro sì ci sarà ci sarà di più ci sarà più rock rispetto magari ai primi singoli ecco questo sicuramente sì chiaro siccome logicamente noi come ho detto all'inizio l'audio è stravolato poi lo manderemo a Radio Crisola Radio Scoot quindi alle radio sì a parte che c'è anche Maria Bellino che ci sta seguendo che conduce il programma il lunedì dalle 17 alle 18 il cocktail di musica e quindi su Radio Crisola bene ecco facciamo a questo punto facciamo una dedica su questo programma a chi la vogliamo dedicare It's Gold allora It's Gold la dedico innanzitutto a tutti quelli che ci stanno scostando in questo momento poi niente la la voglio dedicare a al mio nipotino che che praticamente ha due mesi e quindi e quindi farà due mesi fra qualche giorno quindi voglio dedicarlo a lui è un bel augurio perché lui rappresenta un po' il futuro assolutamente ma anche rappresentati su rappresentati su assolutamente la disco chiama la palaia e quindi a Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti